Per disegnare una soletta come potrebbe essere un balcone, occorre dal menu Disegno selezionare l'oggetto architettonico Soletta. Posizionandoci con il puntatore, scegliamo un punto da dove partire ed effettiamo un primo clic. Usufruendo dei punti di intersezione con l'involucro verticale, procediamo inserendo gli ulteriori nodi che compongono la superficie dell'involucro. Le distanze tra i punti possono essere definite con gli snap, ma anche digitate da tastiera. Inserito l'ultimo punto, possiamo terminare il comando. Nel toolbox Proprietà, per l'oggetto possiamo cambiare dal catalogo. La stratigrafia Definire se pendente o meno Impostare il sistema di riferimento altimetrico Ed i materiali Selezionando un tratto della soletta, possiamo personalizzarlo, usando le apposite maniglie, ma anche inserendo o cancellando un nodo, impostando un offset, cambiando il tratto in arco. Le funzionalità appena viste per l'inserimento e personalizzazione dell'oggetto soletta Sono del tutto analoghe a quelle già viste per l'involucro orizzontale.